Mai come in questo periodo in cui siamo circondati dalle notizie delle ennesime atrocità compiute dai terroristi islamici, mai come in questo periodo in cui la crisi economica sembra non voler mai finire, mai come in questo periodo ognuno di noi deve mollare la presa, deve mollare la presa con quelli che sono i propri sogni da realizzare, anzi deve andare avanti a testa bassa come se niente fosse perché alla fine sono sicuro, siatene sicuri, alla fine realizzeremo tutti i nostri sogni. . . . . . .